buongiorno ragazzi domenica 7 aprile dopo aver dato un diciamo una sferzata di purtroppo realismo truculento ieri in relazione a quella che è stata la scintilla che piace scattare il massacro in ruanda vi invito a guardare il video perché anche quella una pillola breve ma estremamente importante per la storia recente diciamo dell'umanità un genocidio incredibile oggi trattiamo qualcosa di un pochettino più divertente oggi tra l'altro è un è una puntata della botteguccia in cui non ho neanche preparato la scheda nel senso che non c'è effettivamente una vittima un reale crimine è un fatto di cronaca che sicuramente degno di essere raccontato il 7 aprile perché ha avuto un'importanza comunque decisamente reale per quanto concerne il mondo che oggi è diventato per certi aspetti anche della comunicazione direi estremistico ma veniva interpretato da alcune persone che hanno una come dire una direzione omosessuale della propria sessualità in maniera assolutamente alcune volte ridanciana ma sicuramente degna di rispetto per quanto concerne quella che è la propria normalissima considerazione insomma dell'orientamento senza grosse bandiere sventolate piuttosto che una politica di informazione esagerata comunque veniamo ai fatti 7 aprile 1998 avveniva l'arresto di una persona estremamente celebre che è mancata il 26 dicembre del 2016 quindi non è più con noi uno dei più grandi cantanti della storia della musica dal pop degli anni 80 fino al sol e qualsiasi tipo di interpretazione insomma all'interno della musica cosiddetta leggera una delle più grandi voci di tutti i tempi ovviamente sto parlando di george michael il 7 aprile del 1998 fatto che venne anche insomma citato nella sua it outside let's go outside venne arrestato a los angeles per essere stato sorpreso teoricamente a fare atti o sceni in luogo pubblico in particolare nel bagno pubblico della we rogers memorial park in ai pressi di beverly hills insomma è stato arrestato da un poliziotto che a quanto pare stava controllando la zona insieme ad alcuni colleghi e accusò george michael lo arrestò sostanzialmente per avergli fatto delle avance all'interno di questo bagno pubblico non si sa esattamente come è andata george michael venne liberato con una piccola cauzione condannato 80 ore di servizi sociali ma lui descrisse la situazione un po come sono sue parole insomma è stata una di quelle situazioni in cui quando da piccolo sai io ti faccio vedere il mio tu mi fai vedere il tuo per fare le misure ecco questo è quello che questo è il modo in cui viene descritta la situazione da george michael quello che è certo è che c'è una rilevanza dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista mediatico perché george michael poi a distanza di anni spiegò l'evento come una sorta di pulsione lui disse psicologica a voler effettivamente chiarire in pubblico e quindi fare un coming out su una questione che in realtà era ovviamente era uno di quei tra virgolette segreti pubblici no riguardo a quella che era la personalità e l'orientamento sessuale di george michael ecco questo lo fece venire a galla gli permise anche tra l'altro di fare un bellissimo e divertente video di outside insomma con i bagni con le luci stroboscopiche eccetera veramente va beh divertente ma curato in maniera devo dire piuttosto degna di rispetto per quello che riguarda la sua signorilità un esempio effettivo del fatto che in realtà o secondo me secondo il teo quel capato ogni tipo di estremismo in termini di manifestazione di orientamento sessuale è comunque qualcosa di ridicolo quindi è ridicolo sessismo da una parte il macismo il super femminismo fra virgolette che non è vero femminismo ma in realtà è favorevole al maschilismo di donne pin up che fanno uso del proprio corpo semplicemente per apparire in maniera eccezionale così come è effettivamente secondo me ridicolo un utilizzo estremamente volgare ed eccessivo di una manifestazione di un orientamento sessuale di tipo omosessuale ecco secondo me george michael con la sua ironia è riuscito sicuramente a fare a portare a termine una comunicazione che non ha mai travalicato i limiti di una certa signorilità e di una certa ironia per cui una persona che oltre a essere ricordata e che va ricordata in maniera eccezionale per quello che è stato il suo apporto alla musica eccezionale va anche ricordato per aver trattato insomma questa vicenda questo arresto con tutta la signorilità e con tutta la misura che secondo me si addice a qualsiasi tipo di questi argomenti quindi andando escludere tutte quelle che sono le manifestazioni più estreme che ci sono oggi ancora una volta io non mi distacco dal mio essere assolutamente non politica li corre perché insomma i carri si fanno a carnevale george michael invece si è comportato come dovrebbe comportarsi qualunque persona con qualsiasi tipo di orientamento secondo me a riguardo proprio per dimostrare anche un certo equilibrio in relazione al proprio orientamento l'equilibrio tendenzialmente si mostra con signorilità e con tranquillità le manifestazioni estreme sono evidentemente secondo me rappresentazione di un disagio psicologico o psichiatrico addirittura da qualunque parte indipendentemente quindi onore sicuramente a george michael se vi è piaciuta anche questa pillola di oggi mi raccomando ecco qua sempre sbagliare mi raccomando andate a unirvi a crack apart youtube mettete un like e mi raccomando questa sera abbiamo iniziato la giornata con una pillola divertente oggi questa sera parliamo alle 21 e 30 in una live speciale dei segreti di madre teresa di calcutta la cosiddetta santa madre teresa di calcutta che insomma vedremo ci sono più 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 di un'ombra insomma dietro a questo personaggio trattato invece come al solito mediaticamente come eh a senso unico ecco a senso unico ecco qui alla botteguscia dei segili a senso unico non andiamo di sicuro anzi grazie mille ci vediamo mi raccomando questa sera la live e come al solito con un crimine e come al giorno domani sempre su crack apart grazie mille ci vediamo